Ecco c'è l'ingresso di un nutrito gruppo a Piazza del Popolo, sono le 13.30, ladri i papponi, non mi suicido, combatto, vediamo, non mi suicido, combatto, un imprenditore, e appunto vediamo l'ingresso di un gruppo di manifestanti, saranno un centinaio, stanno entrando nella piazza con delle bandiere italiane, perché comunque la bandiera italiana è uno dei simboli, come potete vedere, di questo movimento, quindi del movimento 9 dicembre, dei forconi, ecco vedete che stanno entrando. La tina, quindi manca un'ora e mezza all'inizio della manifestazione vera e propria che avverrà appunto alle ore 15, speriamo non succede niente a livello di sicurezza, eccoci qua, quindi quello che sembrava, ecco lì ci sono altri che sono a Piazzale Flaminio, alla porta Flaminia che dà su Piazza del Popolo.